Francesco Vainano Con quei due ragazzi, questo è quanto, è un miracolo degli attori, se certe cose sono venute bene, è un miracolo della mia assistente Roberta Schiavon, è un miracolo di tutti quelli che collaborano, ogni tanto dico una cosa Senti, una curiosità che forse magari parecchie persone si chiedono, ci sono vari film di varia importanza, quando si fa la direzione di un film così grande come la trilogia del Signore degli Anelli, qual è l'escalation, la preparazione a una lavorazione così grande? A differenza di un film magari televisivo Qual è l'età minima dei ragazzi qui stasera? Qual è? Quale sarà? Quale sarà? No, non so se posso dire qual è il primo passo No, no, dillo, dillo Si può? Si, dillo, non ti preoccupare Ci si caga sotto E' vero, è una grande responsabilità Senti Francesco, se ti chiedo una cosa Aspetta, la posso chiedere? Vai Però io l'ho contattata Lo so, non lo devo fare, mi avete detto di non farlo, però lo faccio Pensa che la stessa voglio chiedere io però Forse, sei un tesoro Sei un tesoro, il mio tesoro Il mio tesoro Ma va volete Gollum? Ma com'è possibile? Non me lo chiedono mai E' quella Ma quella Ecco, nient'altro Quella lì? Sì Mi sto esibendo Scusate Il mio tesoro No, no, no Grazie, grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti